Grazie a tutti Giro di Boa sono quasi appagliati Ma questa volta è presa Stava rimontando Paolo Wow Sono quasi Partiti Vediamo chi è il primo a fare il giro di Boa Dopo i sassi E Paolo Cudulli Dai Cudulli Tiro qui alla mia destra Paolino si scopone un po' Gentano è in testa Paolino Eccolo Gentano che si riprende Ma andiamo in un traguardo Bravo Kai Ok Ok Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti